L'Abruzzo non poteva restare di certo indifferente al dramma e all'emergenza maltempo nelle vicine Marche. Questa mattina è partita la colonna mobile della protezione civile regionale. Nelle Marche prime 65 uomini con mezzi e attrezzature idonei alla rimozione di acqua, fango e detriti. A Senigallia la protezione civile abruzzese darà supporto alla protezione civile delle Marche e ai comuni maggiormente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che ha causato morti, feriti e distruzione. L'intervento di uomini e mezzi d'Abruzzo si articolerà in diversi giorni. Per ora il supporto è richiesto fino al 24 settembre, chiesti mezzi come cisterne, idropulitrice, anche mezzi Bobgat per il movimento del terreno. C'è molto volontariato proveniente da tutta la regione che si alternerà sul posto a seconda delle esigenze per garantire un'operatività più strutturata. La colonna mobile della regione Abruzzo è già partita, è partita questa mattina alle prime luci dell'alba, ormai ha raggiunto la meta che è Senigallia. Insieme alla colonna mobile ci sono delle attrezzature specifiche che ovviamente il Dipartimento nazionale della protezione civile e la regione Marche ci hanno richiesto che sono specificatamente dedicate ovviamente alla problematica idrogeologica. Quindi sistemi di pompaggio, movimento terra e ovviamente attrezzature anche manuali. Come si snoderà, cioè rimarrete per quanto tempo? Beh, intanto questa è la prima aliquota, quella che è partita questa mattina, ovviamente stiamo poi reintegrando in virtù delle necessità più specifiche che ci verranno rappresentate. Ci è stato chiesto ovviamente di garantire un intervento più strutturato durante tutta la settimana prossima, ovviamente con dei cambi che garantiremo attraverso le nostre organizzazioni di volontariato che sono state prontissime e disponibilissime come sempre. Intanto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha messo a disposizione degli sfollati gli alloggi del progetto case. L'Aquila solidale che non dimentica il ben ricevuto e che ha già messo in campo iniziative analoghe per altre emergenze. Già ne abbiamo disponibili tra 10 e 15. Ho parlato con il presidente Acquaroli, con questa regione che come noi è stata funestata dal terremoto in periodi diversi. credo che sia doveroso per la città dell'Aquila fare gesti di solidarietà dopo tutta quella ricevuta. Lo abbiamo fatto per gli ucraini, per gli afghani, lo abbiamo fatto durante il periodo Covid per gli operatori sanitari, abbiamo messo a disposizione alloggi per i soggetti positivi ma guariti clinicamente per liberare posti letto. facciamo la nostra parte.